Buonasera dal centro sportivo Urbe Tevere per la prima giornata di Serie A. Delit si affrontano in casa il Borgo Rosso contro la tattico smistamento maglia bianca e a righe celesti per la tattico per il Borgo Rosso risponde sempre a righe giallo e blu al tattico smistamento. Andiamo a leggere le formazioni. Il Borgo Rosso si schiava con il 4-5-1, lo visone in porta, il capitano difesa 4 con Codiani, Crea, Altobelli, Di Carlo, centrocampo a 5, Cicerchi, Santucci, La Cialamella e Melchiorre. Il trequartista è Di Maria dietro all'unica punta Tajani. Risponde la tattico smistamento con il 4-3-1-2. Gastoni in porta, Serafini, Florio, Pelliscioni e De Sandoli in difesa. Moro, D'Ambrosio e Di Sabantonio a centrocampo. Il trequartista è Pretelli davanti, le due punte sono il numero 9 De Maia e il numero 8 Tajani. Andiamo a leggere anche le formazioni in panchina. Fiori, Acerbi, Venale, Lemmo, Mariani, Farris, Petrolo, Petrella, Egidi, Sabba e Farris e Cesaretti. Anche il mister del Borgo Rosso risponde all'atletico smistamento. In panchina con Frasca, Spagnolo e Sinagoga sta per iniziare la partita. Attaccherà in questi primi 40 minuti. Da sinistra verso rosso risponderà. Da destra verso sinistra ovviamente l'atletico smistamento. Tutto pronto, palla, l'atletico smistamento. Eccolo l'assistente. Chiamalo, chiamalo così che fai giù. E' iniziata Borgo Rosso atletico smistamento con il giro palla di Florio e Pelliccioni. Gira ora verso De Sandoli. Ancora Florio scambia con il compagno di reparto Pelliccioni. Ora su Serafini il numero due. Parli mezzo a Pretelli che gira ancora da Moro. Va dall'altra parte sul centro di destra dal tersino. Prima rimesso a laterale sarà per l'atletico smistamento. Alla fascia di destra se ne occuperà il numero tre De Sandoli. che lo dà in avanti. Scambia a De Maio che riesce a girarsi a centro campo. Viene superato un gioco del Bordo Rosso che riesce poi a recuperare la sfera. Scambia con il numero 19 Cicerchia che giocherà alto a destra. Palla in verticale. Tagliani uno contro uno contro il numero due Serafini. si appoggia poi a Di Carlo nella trequarte offensiva di destra. Scambia con Di Maria. Ancora centrodestra alla verticale in avanti a cercare ancora Tagliani. Chiuso poi un battier ribatti. Palla fuori rimesso dal fondo per l'atletico smistamento con Gaston. Che è pronto a rilanciare poi lascia la battuta a Pelliccioni. Di Maria occhio che c'è uno che vi gioca alle spalle. Di Maio! Cambio con De Sandoli. Poi di Sabo Antonio in verticale capisce tutto la cialamella che sbaglia però. E recupera ancora la difesa del atletico smistamento. Florio lancio con il mancino in a diagonale a cercare lo stop di petto. Cario di De Maio sbaglia però. Riparte allora Santucci. Bella bella palla per Tagliani in orizzontale a cercare Melchiorre. Va via numero 44. Poi viene contrastato regolarmente. Tantatezzandoli è costretto allora a tornare indietro. Da Codianni. Che scarica ancora dietro da Crea al numero 17. Verticale ancora Codianni. Palla fuori rimessa laterale. La verticale a cercare Melchiorre. Due minuti di gioco se ne sono andati. Ancora 0-0. Capisce tutto Pelliccioni. Può far ripartire Di Sabo Antonio che è chiuso dal pressing di due giocatori. Perde palla di Sabo Antonio. Palla riconquista sul limite. Palla che torna sulla tre quarti offensiva. Bianco-blu. Palla in verticale. Anticipato ancora da Pelliccioni. Uno giocatore di Melchiorre. Ma gli è bianco-celeste. Palla in avanti. Dove c'è De Maio che va via. Ancora De Maio nella tre quarti offensiva di destra. Due contro cinque. Palla proprio per De Maio. Chiuso dall'ottimo intervento in diagonale difensiva. di Altobelli. Andrà battuto ora la rimessa. Con De Maio. Scarica ancora sul terzino. Il cross. Profondo sulla secondo palo. Cioè Tani contro Di Carlo. Passa il numero nove. La mette dentro. Deviata. Palla che arriva tranquillamente tra le braccia del capitano Lovison. Che rilancia il più lontano possibile. Ci arriva Tajani. Scambia ancora con Melchiorre. Poi ancora Tajani. Seguite bene il triangolo. Chiuso. Due giocatori. Poi Tajani va orizzontalmente. Dal numero quattro. Che scambia ancora con Di Carlo. Ancora Santucci. Il cross dentro. C'è Tajani. Stoppa con il petto. Si riesce a girare in qualche modo. Palla che arriva poi. Bene. Ci ha provato Di Maria. Crea. Lancio in avanti di Florio. Palla viene svirgolata. Poi riconquistata dal numero 17. Crea che scambia ancora con Tajani. Di Maria. Anzi a Santucci. Ancora Scudella. In avanti per Codiani. Gentinara. Tiro cross deviato. Primo calcio d'angolo del match. Sarà per il Borgo Rosso. Sulla sinistra. Al minuto 5 del primo tempo. 5 giocatori in aria. Battuto con il destro da rientrare. Tra un fondo sul secondo palla. È uno schema. Palla che proviene riconquistata. Dall'attatico smistamento. Che può partire sulla fascia sinistra. Uno contro uno. Velocità. Tani ottimo. L'intervento in scivolata di Crea. Serafini batte la rimessa. Pertà Ani crossa dentro. Sul portiere. Che la fa sua. Serafini. Serafini. Vai ancora in fase di impostazione. Il Borgo Rosso. Che poi la recupera al centrocampo. Con Santucci. Che la gira verso il numero 13 di Carlo. Una trequartia offensiva di destra. Di Carlo. Orizzontalmente. Da Di Maria. Che viene chiuso. Anzi è Melchiorre. Che si è centrato. Chiuso. Il numero 44. Poi la riconquista Santucci. Sull'esterno. Ancora per Melchiorre. Il cross teso. Smanacce in qualche modo Gaston. Che non ci arriva però. Palla fuori. Anzi no. Riesce a recuperare De Sandoli. E può far ripartire i suoi. Con un lancio in verticale. A cercare un suo compagno. Che però non c'è. Troppo lungo il suggerimento verticale. Poi la cialamella. Può ripartire in qualche modo. Larga su Melchiorre. Anzi è Codianni. Ora Melchiorre. Si vede il teatro con Codianni. Spazza. Però. Florio. La riconquista Codianni. In la trequarta. Offensiva di sinistra. Va ancora. Profondo. Verso il cross. Che arriva. Deviato ancora. Calcio d'angolo. Secondo. Per il Borgo Rosso. Battuto ora. Secco sul primo palo. Arbitro. Ha visto un fallo. Quindi calcio di punizione. Per il Borgo Rosso. Battuto sull'esterno. Cercare ancora Codianni. Che può crossarla da lì. Va col destro. Suggerimento in Ternaticolo. Con il stacco Melchiorre al limite. Recuperata però da. Squadra giallo-blu. Che può ripartire con il numero 11 d'Ambrosio. Sulla fascia di sinistra. La verticale. A cercare Tani. Il numero 8. Tutto di sinistra. Scarica dietro da Pretelli. Poi ancora il numero 11 d'Ambrosio. Sul Mancino. C'è la Tani. Che crossa. Deviato. Murato. Palla ancora a lui. Si appoggia poi al numero 10. Che è Moro. Perde palla. Riparti il volgo rosso. Con Melchiorre. Voleva lanciarla. Non ha visto nessun compagno. In era di rigore. Allora si riparte. Da Santucci. Ancora Melchiorre. Suggerimento sulla sinistra. Premiato. Ecco Tiani. Che può anche crossare da lì. Va col Mancino sul secondo palo. Palla che spiove. Di testa anticipato ancora Melchiorre. Spazza male la divisa giallo-blu. Poi la riconquista. Lancia in verticale. A cercare ancora il numero 8. Che è Tani. Di testa. Ci arriva però Di Carlo. Che vince il contrasto regolare secondo l'arbitro. De Maio. Spalla alla porta. Riesce a girarsi in qualche modo. Sul cerchio di centrocampo. L'allarga sul terzino sinistro. Numero 2. Serafini. Uno contro uno. Conto Di Carlo. Lo punta. Bella palla in verticale. In area di cora. A cercare il numero 9. Di Maio. Esce. E copre. Il capitano Lovizon. L'arbitro ha visto qualcosa. Anzi fischia. Sta parlando un po' troppo De Maio. In questi primi dieci minuti. Dice l'arbitro. Mezz'ora. Al termine del primo tempo. Ancora poche emozioni. In questo burgo rosso. A retico smistamento. Siamo ancora è vero. Alla prima di campionato. Ma la partita la sta facendo la squadra bianco celeste. E prova a ripartire in contropiede. La dico smistamento. Finora non ci è quasi mai riuscito. Parte in avanti in velocità. Ci cerchia. Il cross è in area di rigore. Anzi al limite. C'è il numero 4 che calcia. In diagonale. Tiro troppo smorzato. E palla che finisce fuori senza deviazioni. Se Tagliani ti viene incontro vai tu. Se lui viene vai tu. Ocice. Melpiorre. Dai. Battuta a corso da Belliccioni. Viene Giulio. Serafini. Scambia con il numero 10 Morio. Che cambia lato. E va da De Sandoli. Belliccioni. Giro palla davvero sul proprio compagno di difesa. Florio. Poi ancora Moro. Pressing alto. De Già del Borgo Rosso. Serafini con il mancino. Rinuncia al lancio orizzontalmente. Ancora da Belliccioni. Sale anche il baricentro della squadra gialloblu. Che vuole manovrare l'azione offensiva. Belliccioni sull'esterno. Sbaglia però il lancio. Palla fuori. Codianni. Lancio in verticale. Di Maria. Allarga. Sul Melchiorre. Vada alla Cialamella. Il numero 20. Ancora Codianni. Può salire. Perde palla. Palla fuori però. Rimessa laterale. Per il Borgo Rosso. Con il tacco Melchiorre. In qualche modo. Pelliccioni. Anticipa e lancia in avanti. A cercare il numero 9 che viene chiuso. Era De Maio il numero 9. Allora palla arriva A di Carlo. Centralmente. Il numero 4. Scandia con la Cialamella. Ma sulla sinistra. C'è Codianni. Può salire il numero 3. Vai sul fondo. Punta al terzino. Il cross. Il centro della tricola. Spiovere. Ci arriva ancora Serafini. Palla rimane ancora buona per il numero 4. Finta. Controfinta. Calcia in porta. E arriva all'1-0. Del Borgo Rosso. Al minuto 12. Sicuramente più pericolosa. La squadra di Cesaretti. Vanno a esultare. I giocatori di maglia bianco celeste. Che sicuramente sono stati, come dicevo, in precedenza, i più pericolosi finora. In questi primi 13 minuti di gioco. Va bene, bravo Giulio. Bravo Fabiani. Bravo, dai. Dai. Riparta l'ora della giropalla. Glatatico smistamento. Giulio prendi l'11. Florio. D'Ambrosio. Gira ancora con noi a Florio. Girimento centrale verso il compagno di Reparto Pelliccioni. E chi ha l'esterno? Che gira in andato dal portiere. Gaston. Ti alza, ti alza, ti alza. Dai, prendiamo tutti l'uomo più vicino, dai. Vada Pelliccioni. Alza lo sguardo. È la numero 5. E va profondo. Da Tani. Che la spizza di testa. Uno contro uno in velocità. Tani. Copri con il fisico. Uno contro due. Sulla fascia di testa. Al testa della bandierina. Ancora Tani che passa. Deviazione. Ultimo tocco. Di uno. Giocatore maglia bianco celeste. Infatti è calcio d'angolo. Primo calcio d'angolo per l'atletico smistamento. Al minuto 14 del primo tempo. E salgono quattro. L'area di rigore maglia gialla. Tre sui venti metri. Cross con il destra. Uscire a spiovere. Accettare l'area di rigore. Di testa. D'Ambrosio alto. Rimessa corta di Lovizon. Per Crea. Si è allargato il difensore centrale in maglia 17. Può salire. E può impostare da lì. Scambia con Melchiorre. Qualcun modo non arriva la sponda vincente di Melchiorre. Chiede ai suoi un po' di movimento. Florio da dietro. Che vede un po' statici. I compagni in maglia giallo e blu. Perdono palla. Infatti sulla sinistra. Può ripartire il numero 20. La cialamella. Che scambia con Cicerchia. Riparte con l'estero di sinistra. Melchiorre. A cerchio di vivere al centrocampo. Perde palla però. Riconquista allora. Andate con smistamento. Con il numero 11 D'Ambrosio. Va verticale a cercare De Maio. Chiuso da un ottimo intervento ancora. Ti Crea. Poi Melchiorre. Cambia gioco sulla fascia di destra. Ci arriva Melchiorre in qualche modo. Anticipato però. Dal numero 2. La palla che non la fa uscire. Verticale numero 2. Non c'era la corsa in a diagonale di Tani. Allora Altobelli. Si appoggia all'Ovisonna. Ancora Altobelli. Palla verso il numero 13. Palla verticale. Alza un campanile stranissimo. Qui il terzino del dedico smistamento. La recupera ancora una volta il Borgo Rosso. Palla verticale verso il numero 22. Con il tacco Pretelli. Svirgola. Crea. Palla ancora buona per Altobelli però. E c'è la verticale verso Cicerchia. Chiuso da due giocatori. D'Ambrosio verticale. Ancora per Tani. Manca lo stop. Recupera Ticcarlo. Ancora con lui. Ancora con lui. Ancora. Tani che si è abbassato. Nel numero 64. Cambia con Cicerchia. Va via. Anzi era Melchiorre. La palla è per Cicerchia. Che manca lo stop. Manca lo stop anche il numero 11 d'Ambrosio. Recupera ancora allora il Borgo Rosso. Di Maria. Alza lo sguardo. Palla sull'esterno. In qualche modo arriva. In qualche modo no. Deviazione di un difensore che sta in tondo provvidenziale. S però. Chiaston. La blocca. Alza lo sguardo. Il portiere numero 1. In maglia grigia. D'Ajani. Quello in mezzo. In mezzo D'Ajani. Va a rimbalzare. Va corta perché si è abbassato. Moro. Va in verticale. Liscio ancora di Crea. Favorisce De Maio. Uno contro uno di De Maio. Crea. Poi torna. E la fa sua. Di Carlo. Si appoggia ancora verso Crea. Vai Codianni. Vai Codianni. Melchiorri. La cialamella. Veronica. E passa ancora. Melchiorri. Ancora per Codianni. Non ci arriva. Troppo lungo il suggerimento verticale. Del compagno di maglia 44. La rimessa laterale. Sarà per l'atatico smistamento. Anzi no. Palla fuori. Addirittura è uscita. Quindi è rimessa dal fondo. Minuto 18. Del primo tempo. 22 più recupero. 1-0 per il Borgo Rosso. Al minuto 11. Arrieta il gol dei patroni di casa. Davanti alla propria area di rigore Moro. Scambia con Pelliccioni. La verticale è sbagliata. Anzi o meglio. Capita. Inascivolata. Da un ottimo intervento. Del numero 20. La cialamella. Ora De Sandoli. Forse è contro farlo. Lascia proseguire. La verticale del numero 10. Svirgola. Crea. Che la mette fuori. Ancora rimessa laterale. Ancora. Per l'atatico smistamento. Gioco di prestigio qui. Lancia in una verticale. Chiuso bene da Codianni. Palla che rimanza ancora a centrocampo. E finisce dalle parti di Crea. Che rilancia con il Mancino. Dove ci arrivano soltanto i suoi compagni. Emel Chiorre. Larga ancora sulla destra. Verso Cicecchia. Non può arrivare. Non può arrivare. Non può arrivare. Il numero 19. Serafini va dietro. Un rilancio di Pelliccioni. La sponda di Pretelli. Ha il numero 10. Che è Moro. Palla che passa in qualche modo. Non c'è però nessun gioco di Maglia Gialla. Può ripartire. Allora Lovison. Codianni. Palla Cialamella. Larga ancora. Santucci. Palla Cialamella. Larga ancora. Verso Mel Chiorre. Che sbaglia. Una palla è stata deviata. Quindi l'ha rimesso. Sarà ancora per il Borgo Rosso. La verticale cercare Mel Chiorre. Corri. Palla che arriva. La rispettoria di Pelliccioni. Che gira indietro. Da Gaston. Minuto 20. Del primo tempo. 1-0 per il Borgo Rosso. Ancora. Non è stato. Quasi mai pericoloso. Lo smistamento. Che ora lancia il pallone in avanti. Verso. Tahani. Che però era fuori gioco. Occhio che lo farà spesso. Lo farà spesso. Altobelli allora. Verticale. Verso Di Carlo. Scarica ancora indietro verso il numero 4. Cambia gioco perfettamente. Codi Anni ci arriva in qualche modo. Stoppa bene il pallone. Il numero 3. Davanti lui c'è Mel Chiorre. Vai in diagonale. Dal numero 64. Tagliani. Che gira ancora indietro. Quella bella finta di La Cialamella. Che manda a voto il suo diretto avversario. Verticale ancora. Codi Anni. E' meglio il numero 4. Che va in verticale. Ancora. Ha anticipato. Però. Ci cerchia. Riparte allora. Il numero 2. Serafini. Scarica il dito da Moro. Poi Pelliccioni. Ancora Serafini. Può partire il numero 2. Bellacrosso profondo. Lo Vizion. Esce la blocca. A posto o stai male? Appoggia sull'esterno di destra Di Carlo. Appoggia indietro da Alto Bellis. Cambia ancora con Di Carlo. Poi Lo Vizion. Va dall'altra parte. Dove c'è Crea. La Cialamella. Ora Di Maria. Che si è abbassato. Fare il mediano. Scambia con Melchior. Ancora la Cialamella. Arriva un'altra volta. Sulla fascia di sinistra. Codi Anni. Che stranamente sbaglia lo stop. Finora. È stato decisivo questi primi 20 e più minuti di Codi Anni. Con le sue discese sulla sinistra. Che hanno anche permesso a siglare l'1-0 il Borgo Rosso. Partiva da lì l'azione del momentaneo e fino alla decisiva vantaggio. Pelliccioni. Scambia ancora. Con D'Ambrosio che si è abbassato dai difensori. Moro. Ancora indietro per Pelliccioni. Non ci sono sbocchi offensivi. Chiude molto bene. È aggressivo il Borgo Rosso. Occhia la palla profonda. Occhia la palla lunga. Occhia la palla lunga. Bella palla lunga di un difensore. A cercare Tania. Anticipato però. Di testa la sbecca a un centrocampista del Borgo Rosso. Arriva addirittura palla a Gaston dall'altra parte. Pelliccioni. Florio. Bella palla in avanti. Chiusa però dall'intervento di Di Carlo. Palla a centrocampo. Alto Belli. Scambia ancora con Di Carlo. Va centralmente verso il numero 4. Troppo a Melchiorre. Palla per lui. Anzi a Cicerchia. Di Maria. Ancora sulla destra. Si voleva riconcutere il triangolo. Con uno tra Di Carlo e Cicerchia. Troppo veloce però il pallone di Di Maria. Allora Serafini. Pronto a battere. Centralmente al numero 10 Moro. Alza lo sguardo. Vai in uno contro uno. Contro tutti. Doppio passo. Poi si appoggia. D'Ambrosio. Centralmente. Di Sabantonio. Si è visto poco finora al centrocampista numero 13. Poi Pelliccioni. Gira dall'altra parte. Da Florio. Poi ancora Pelliccioni. Di Sabantonio. Bel lancio in verticale. A cercare De Maio. Che la stoppa bene con il petto. Poi con la coscia. Alza il pallone ancora. Poi scambio in diagonale. D'altra parte. Arriva Serafini. Che può anche crossarla con il sinistro. smorzatissimo. Il sinistro. Che va a finire addirittura. Tra le braccia di Lovison. Può ripartire allora il Borgo Rosso. Che si gira dall'altra parte. Verso Crea. Può partire il numero 17. Codianni. Sulla linea del centrocampo. Davanti a lui c'è il numero 44. Scambiene invece. Con la cialamella. Poi ancora Codianni. Va via Codianni. Anzi la cialamella. In bello stile. Si accentra. Cambia gioco. Bellissimo. La diagonale. Chiusa però. Da Serafini. Può ripartire il numero 2. Chiuso però. In qualche modo Moro. Nasconde il pallone. Ammerchione. Si gira verso De Sandoli. Poi indietro da Pelliccioni. Vieni Cici. Alza di te. Ancora Florio. Poi Serafini. Scavalo scarico verso D'Ambrosio. Chiuso dal numero 19. Che ci cerchia. Suggerimento in verticale. Adi Carlo. Che è salito. Sale numero 13. Il cross sul secondo palo. Profondo. In qualche modo Pelliccioni allunga. Poi Melchiorre. Cross in area. Chiuso. Di sabbantonio. Di sabbantonio. De Maio. Stoppa con il petto. Spala la porta. Fuora si gira. Non vede i suoi compagni. Allora ricomincia il giro palla. Con Pelliccioni. Scambia ancora con De Maio. che è nel cerchio di centrocampo. Poi da Pelliccioni. Alza di alza di alza di alza di alza di. Florio. Sì sì. Dite. Aspetta. Aspetta passo. Scambia ancora con il numero 10. Poi va da Pretelli. Pretelli riesce a girarsi in qualche modo sull'esterno di destra. Chiuso ancora da Godianni. Poi De Maio. Uno contro uno contro Godianni. Si gira Godianni in qualche modo sui 20 metri. E subisce anche fallo. Calcio di commissione. La posizione interessante per l'atletico smistamento. Siamo intorno ai 20 metri. Spostati sul centro di sinistra. Siete pronto anche un cambio. Sia da una parte che dall'altra. Sia Borgo Rosso che smistamento. Tira fra Fiorio il vaccino dai. Fiorio Fiorio. Per tirare Fiorio. Dice almeno così il mister. Sono un po' a Gotti là fuori. Che vuoi le altre funzioni di frano? Vabbè la parata. C'è anche De Maio sul punto di battuta. E c'è anche Moro. Fiorio però è mancino. Mentre sta per cambiare modulo lo smistamento. Il 4-4-2. Va Fiorio. Passa. Mezza rabaglia del pallone. Mezza altezza. Lovison la blocca. Non può fare il partito senza. Cambio. Faccio sull'esterno. Chiuso. Dotto cambio. Della parte che dall'altra. Marco. Marco Matteo. Marco Matteo. Marco Matteo. Esce Melchiorre con il numero 44. Entra Egidi. Mentre sta per entrare il numero 4 e il numero 18. Per lo smistamento. Si tratta di Frasca e Spagnolo. Lancia proprio per Frasca. Che tocca il suo primo pallone. Vieni chiuso. E' costretto a tornare indietro. Cambia verso il numero 10. Moro. Centro di destra. 3 quarti. Può partire Moro. Mancino. Bellaggia sul esterno di sinistra. Chiuso. Dal terzino del Borgo Rosso. Poi sbaglia. In qualche modo c'era fini. La riconquista è la numero 2. Centrocampo con D'Ambrosio. Sbaglia il suggerimento indietro. Può ripartire al numero 80 Egidi. Apperientato. Uno contro uno. Non passa. A Fiorio. Carica indietro. Poi ancora sicuro il triangolo. Deviato. Dalla numero 13. Rimessa. La linterna offensiva. Di sinistra. De Maio. Bella lancina diagonale. La palla è buona. Ci arriva Lovison. Anzi no. Pallonetto in mezzo. Calcio di rigore. E ne fischiato il calcio di rigore al 28esimo. Codianni non ha chiuso la diagonale. Non ha chiuso la diagonale. È uscito. Allora Lovison sulle gambe. Il gioco di rigore. Il gioco rimane da giallo-blu. Calcio di rigore. Da qui sembra sacrosanto. Sul punto di battuta. Andrà al numero 9 De Maio. Mezz'ora di gioco. 10 più recupero al termine del primo tempo. 1-0 finora. Ma c'è la possibilità di pareggiarla per tatico smistamento. Va De Maio. Che spiazza Lovison. Bravo. Bravo. Ed è 1-1. Minuto 28. La pareggia da De Maio. Allora tutto da rifare. Dal Borgo Rosso. Di Maria. Scambiano al centrocampo. Unile numero 4. Che poi si appoggia a Dicarlo. Si guida il triangolo centralmente. Poi la cialamella. Che caccia importa. Non è strozzato. E parte Gaston corto da Florio. Ora Serafini. Lancio in avanti. Ci arriva la data del gol del pareggio. De Maio. Che stoppa bene i pallonesi. Gira dal numero 10 Moro. Che cercava un suggerimento in verticale. Che non è arrivato. Verso Spagnuolo. Ma non è troppo profondo però. Allora riparte. Di Carlo. Bene. Qui la numero 4. Che c'è tornarina dietro. Riproviamo le stesse cose. Che voglio per allenamento ragazzi. La cialamella. Eccolo. Eccolo Di Carlo. Vieni. Per qualche istante. Chiuso bene la cialamella. Ultimo tocca suo. Rimessa laterale per l'atletico smistamento. Pronto Serafini a battere. Tutto la linea del centro campo. A cercare. Tani. In qualche modo di carla. Svirgolarla. Buona però. Per De Maio. Che però dice l'arbitro. L'ha toccata con un braccio. La calcio di punizione. Avanti la papera di rigore. Per il Borgo Rosso. 1 a 1. Mezz'ora di gioco ora. Bella palina avanti. A cercare i giri. Che si gira in qualche modo. Il numero 80. Con l'attacco. Va via Serafini. Non ad Ambrosio. Può ripartire ancora. Tatico smistamento. Con Serafini. Poi davanti verso Spagnolo. Ancora Serafini. Si guida il triangolo. Verticale in avanti. Spostato sulla sinistra. C'è Ra de Maio. Che però commette fallo. Sull'ottimo anticipo. Ancora di Altobelli. Di Maria a battere. A cercare Cicirchia. Non è marcato Cicirchia. La corso dei giri è anticipato ancora. Da Fiorio. Poi di Maria. Sto va bene con il petto. Lascia di Carlo. Verticale. A cercare i giri. Chiuso. Da un ottimo intervento. Del numero 10. Poi palla che rimane ancora a disponibilità. Del Borgo Rosso. Con il retiro di egiri deviato. Palla che poi rimane lì. Riparte il numero 10 Moro. Che si cambia con Serafini. Chiuso. Benissimo. Il lancio da Di Carlo. Di Maria. La cialamella. Scania ancora con Di Maria. Centrocampo. Siamo sulla sinistra in questo momento. Non arriva però. Il pallone ha destinazione. Può ripartire. Allora. Disabantone che subisce fallo a centrocampo. Trentatresimo in un corso. Moro. Scambia con D'Ambrosio. Poi ancora Serafini. Si appoggia D'Ambrosio. Riceve la palla. Cambia il gioco dall'altra parte. Dove di testa la spizza in qualche modo il numero 9 De Maio. Chiuso però poi dal rivecamento di Pensivo di Melchiorri. Poi la spazzata classica di Crea. Liscio. Clamoroso di Pelliccioni. Che forse ha deglato il pallone. Si l'ha ciccato. La rimessa laterale sarà per il Borgo Rosso. Nella tre quarti offensiva di sinistra. Lascia il pallone a Codi Anni. Che batte profondo. La spizza in qualche modo di Gidi. Palla che passa. Non però. Ah Florio. Poi Pelliccioni. Lancio. Lunghissimo. Ancora. Crea. Quella che rimane buona. Che subisce fallo nelle quarti di sinistra. E Gidi. Numero 80 che vuole battere subito. Poi lascia. Alla cialamella. Andrà forse Melchiorre a battere. Infatti è così. Va Di Maria a battere. Andrà profondo in area di rigore. Cinque giocatori in area del Borgo Rosso. Minuto 34. Quarti offensiva di sinistra. Va Di Maria. A spiovere. Certo dell'aria. Poi sulla ribattuta. Arriva in controbalzo di Carlo. Palla fuori. Ancora sempre pericoloso e vivace il Borgo Rosso. Pronto Gaston. Andare con la rimessa. Corta come al solito. Perso il classico giropallo. Impostazione dal basso di Pelliccioni. Palla sull'esterno. Non passa però. Suggerimento verso Di Sabantonio. La riconquista. Allora in qualche modo una difensore. Si è Melchiorre che suggerisce in avanti verso il numero 80 di Gidi. Che si gira in qualche modo. Deviazione. Allora che non passa. Certo dell'aria di rigore. Può ripartire all'ora di Carlo. In qualche modo. Chiuso. Poi si gira ancora Melchiorre. Entri in area da sinistra. Chiuso. Poi incespica in qualche modo. Di Sabantonio. E poi. Stavano per combinare un pasticcio. I due giocatori. Teniamoli qua. Teniamoli qua. Dai. Della tatico smistamento. Perché Lovizon. Anzi. Guardate. Gaston. Al momento di rilanciare il pallone. Ha rilanciato il pallone addosso al numero 80 di Gidi. Palla che però è uscita. Florio. Lancio in verticale. Trattenuto regolarmente. Dice l'arbitro. Anzi no. Irregolarmente. Trattenuto. Il numero 8. Tahani. Abbiamo visto anche da questa postazione. Una trequarta offensiva del centro di sinistra. Calcio di punizione per l'arbitro smistamento. Cinque più recupero alla termine. Quattro e mezzo ora. Con il numero 10. Andrà Moro. Che lascia a ferro. Lo tocca ancora per Moro. È chiuso. Però il numero 10. Non ha suggerimenti. E torna ancora da Florio. Tross profondo verso l'area di rigore. Gamba tesa. Fischiata. Ad un difensore del Borgo Rosso. Forte. Forte regolar. Ancora calcio di punizione. Ancora più pericoloso di quello in precedenza. Perché siamo molto più vicini all'altezza della lunetta dell'area di rigore. Sempre sul centro di sinistra. E sono sempre i soliti battitori a presentarsi sul punto di battuta. Vediamo ora chi andrà sempre col mancino. Forse Fiorio. Più per un mancino dal punto di battuta con la posizione. Eccolo Fiorio che batte. Forte sulla traversa. Sulla ribattuta. Sulla barriera. Scusate. Sulla ribattuta. Ancora prende la barriera. E poi la palla va a finire fuori sulla sinistra. Ultimo tocco di un giocatore del Borgo Rosso. È il momento di rilanciarla. Quindi rimessa laterale per lo smistamento. Battuta ora in qualche modo. Passa all'esterno. Poi il tiro cross è deviato dalla cialamella. Quindi secondo calcio d'angolo. Per datico smistamento. Ancora da destra. Ancora. Pericoloso. Si è fatto più vivace. Sguarda giallo-blu. Dopo il gol del pareggio. È arrivato sul calcio di rigore. Al minuto 28 da De Maio. Battuta con l'esterno. Al centro dell'area di rigore. Bene. Una difensore a metterla fuori. Poi Belliccioli. Suggerimento in verticale. Chiuso bene dalla cialamella. Può ripartire con il 2 contro 3. In qualche modo Di Maria. Centralmente. Chiuso due giocatori. Vedete. È costretto a tornare indietro. Scambia con Di Carlo. Può partire il numero 31 contro 1. Contro lo spagnuolo. Bella palena verticale. Per il numero 19. ci cerchia. Contrasto. Rimessa laterale. Per il Borgo Rosso. Che andrà a battere. Da Di Carlo. Che batte ora. Cercare melcare che non arriva. Ma ci arriva però. Serafini. Può ripartire. Allora. Lo smistamento. Scambio tra i due. Da De Maio e Serafini. Così impiscia un po'. Serafini. L'ultimo tocco. Però è di Altobelli. Quindi rimesso ad Adela ancora. Per. L'atletico smistamento. Battuta da Serafini. Inne dietro. Dal suo numero 10 Moro. Che va in verticale. A cercare. Scatti di Tani. Che non ci arriva. L'Ovizon. Due hanno a termine. Più recupero. Cambia a centrocampo con Di Maria. Poi può salire. Allora il difensore centrale. Dello a Burgo Russo. Scambia ancora. Il cross dentro. La rete di rigore. Non arriva. Serafini in qualche modo. C'è però il numero 19 Cerchi. Anticipato ancora da Serafini. Palla che spiova a centrocampo. Scivola. La difensore centrale Altobelli. Poi la riconquista in qualche modo. Pelliccioni. Dall'altra parte. Moro. Spagnuolo. Può partire uno contro uno contro Di Carlo. Serafini ancora. Anzi. Spagnuolo ancora. Si appoggia ora. Ah. Serafini. Numero due. Tutto Mancino. Si appoggia centralmente. Al numero 10 Moro. Attaccato al numero 4. Moro. Va dall'altra parte. Non si chiude il triangolo del giocatore. Codiani va regolarmente. chiuso l'offensiva del giallo-bluo. Allora il numero 80 del Borgo Rosso. Può che calciare da lì. Può calciare da lì. Con il Mancino. Poi un cespica in qualche modo. Sembrava essere accaduto da solo. C'è calcio di punizione. Peso. Da Egidi. Pallone che andrà a essere posizionato proprio sulla lunetta. 39 e 30. 30 secondi del termine. Più al recupero. Per il Borgo Rosso. C'è un ottimo calcio di punizione. In tre sul punto di battuta. Egidi. Lascia il pallone del numero 4. Odolo del go del 1 a 0. Due minuti di recupero. C'è Santucci a battere. L'autore del gol del 1 a 0. Per la doppietta. Mentre come sentivo anche dall'albitro. Due sono i minuti di recupero. Al termine della prima frazione. Barriera foltissima. Per Gaston. Va Santucci. Prende in pieno la barriera. Ribatto da ancora Santucci. Altissimo. Da quando si ricomincia. Due minuti di se l'arbitro. Quindi ancora 120 secondi. Manca però il pallone. Ancora viene restituito in campo. Vediamo se andrà corto anche ora che manca un minuto e mezzo al termine del primo tempo. Infatti è così. Va da Fiorio. Dotato di un ottimo mancino. Il dipensore centrale. Si sbraccia De Maio. Palla che non arriva. Arriva ad alto Belli però. Che può far ripartire i suoi magliabiancoceleste. Santucci. Scambia con Di Maria. Ancora Santucci. Finta sul numero 10. Santucci può anche tirare da lì. Scambia con il tacco Melchiorri. Il numero 44. Può perde il pallone. Attaccato da Fiorio. Può ripartire all'orata di cosmistamento. Forse ultima azione del primo tempo. Si sgancia sulla destra Fiorio. Parla per lui. In verticale c'è Tani. In diagonale. Il numero 9 che si sbraccia ancora De Maio. Scambia con il numero 4. D'esterno. Vada De Maio. Anzi è Tani. Suggerimento offensivo. Subisce fallo però. Era di Sabantonio per subito fallo. 25 metri. Da lì. Si sta per battere. Questo calcio di punizione. Sul punto di battuta. C'è il numero 10 Moro. Senza barriera per l'ovizion. Va in ora di rigore. morbido al centro dell'area. Di testa ci arriva Alto Belli. Poi un altro colpo di testa. Era di Di Maria. Poi ci si archia. Lungo linea. Perfetto il suggerimento per Di Carlo. Ancora lungo linea. Non ci arriva però Di Carlo. Ma l'arbitro dice che non c'è più tempo. 1 a 1 dopo due minuti di recupero. Al termine dei primi 40. Ci rivedremo fra poco per il secondo tempo. Di Borgo Rosso. Atletico smistamento. Grazie. 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 Tutto pronto per il secondo tempo. Di Borgo Rosso. Atletico smistamento. Risultato fermo sull'1 a 1. Ricordiamo. l'1 a 0 al minuto 11 del numero 4 Santucci per il Borgo Rosso il pareggio è arrivato su calcio di rigore al minuto 28 del numero 9 De Maio e si ricomincia con i secondi 40 minuti di gioco zero cambi nel corso dell'intervallo se non vado errato ora vediamo sì, zero cambi il giro palla difensivo di Altobelli e Crea si appoggia il numero 4 Santucci, palla in verticale, c'è Calemel Chiorre non arriva sul pallone, ci arriva però in qualche modo il portiere Gaston che la gira verso Florio ancora Fiorio va in verticale, cercare il numero 9 anticipato però, dà la Cialamella scambio tra Melchiorre e la Cialamella non si concretizza, può ripartire allora verticale d'esterna a cercare Tani forse in fuori gioco, forse no, ci arriva l'Ovizon in qualche modo scambia con il numero 21 poi Melchiorre centralmente da Di Maria scarica in dietro da Santucci, gioca bene questo Borgo Rosso Santucci, larga sulla destra dove c'è Cicerchia si appoggia in dietro da Di Carlo lo subisce fallo mentre è entrato venale per il Borgo Rosso numero 21 ed è pronto un altro cambio che sta scaldando a Cia Cesarietti in panchina lo vediamo qui sotto gioco ancora non ripreso riprende ora viene restituita palla al Borgo Rosso una Di Carlo che gira in dietro da Altobelli scambia con Crea poi Santucci troppo lenti ragazzi troppo lenti minuto minuto c'ha la Mella minuto minuto ma ancora da Di Carlo il terzino destro può partire lancio in una verticale a cercare EGD che si gira bene EGD sul centro di destra può anche crossarla però non c'è nessun compagno però va a suggerimento in una verticale verso la sua posizione che non arriva è entrato anche Carrano intanto per il Borgo Rosso Moro lancia lungo arriva con lo stop Giustelli Magliaccio allo blu poi perde palla D'Ambrosio poi è il numero 4 Frasca perde la sfera la riconquista è il numero 21 Venale può partire il numero 21 chiuso però è il numero 10 Moro che poi rilancia prende in pieno un suo compagno un'imessa sarà per il Borgo Rosso è pronto un cambio tutta ora la rimessa EGD scambia ancora con il numero 21 Venale l'ultimo a toccare lui quindi la rimessa sarà per l'atatico smistamento anzi no perché il Bordeaux poi ha detto che la rimessa effettivamente era del Borgo Russo è molto d'ora dai GD ci arriva in qualche modo poi parla che arriva però da Gaston Gaston rimatte corto da Florio che lancia sull'esterno a cercare Spagnuolo poi chiuso Moro può partire ancora il centrocampo il numero 9 De Maio attore del gol del 1-1 Frasca chiuso da Venale si appoggia Di Maria la verticale verso il numero 4 Santucci va sull'esterno di destra dove c'è Carrano corre Carrano molto veloce retta sul mancino può anche crossarla da lì va corto verso la Cialamella che scivola al momento della conclusione inciampa sul pallone e può ripartire allora da dico smistamento con il numero 4 Frasca poi siamo sulla fascia di sinistra ancio in avanti a cercare De Maio viene chiuso però da crea ancio sull'estero di sinistra dove c'è Melchiorri stoppa bene con il petto Melchiorri poi Egidi qualche calciare Egidi al limite della re siamo arrivati alla conclusione e non arriva però la conclusione da parte di Egidi parte all'alto di smistamento non c'è nessuno a correre in avanti né Tani né De Maio si lamenta con il suo compagno scivola di Maria non subisce fallo rimessa laterale mentre entriamo al sesto minuto del secondo tempo sarà per l'atrico smistamento andrà a battere con il numero 2 il solito Serafini che scarica su a Moro poi le giropalle indietro con Fiorio poi ancora Moro alza lo sguardo va con il destro al lancio profondo in verticale a cercare il numero 8 Tahani che ci arriva invece no rimessa per il Borgo Russo minuto 7 del secondo tempo pronto di Carlo con le mani si appoggia alla Cialamella che lancia in verticale non ci arriva e Gidi chiuso infatti da Fiorio poi riparti il numero 2 Serafini che scarica indietro da Pelliccioni lancio profondo di Pelliccioni è buono a cercare il numero 9 De Maio ottimo l'intervento però di Crea che fa perdere un tempo di gioco valla ancora buona però sulla fascia di destra per De Maio senza valo si appoggia al numero 11 D'Ambrosio bravo Di Maria qui a contenerlo poi rimessa laterale per l'altrico smistamento battuta già da De Sandoli verso il numero 10 Moro si appoggia a Frasca poi gira indietro De Sandoli mettendo un po' in difficoltà Pelliccioni che poi si rifugia da Gaston di testa di Maria è buona per il numero 20 da Cialamela che larga sul destra dove arriva Carrano può anche crossare da lì a Carrano deviazione calcio d'angolo primo calcio d'angolo del secondo tempo tra il Borgo Rosso drappatore a destra mentre l'Aibrio fischia qualcosa minuto 8 per essere battuto il primo calcio d'angolo del secondo tempo mezz'ora al termine andrà a battere di Maria con il destro ad uscire sul primo palo ci arriva in qualche modo Egidi non riesce a schiacciare pala che si alza poi Gaston la blocca e testa a testa hanno fatto Egidi un giocatore maglia giallo-blu mentre è pronto anche un altro cambio per Ratatico Smistamento abbiamo sentito che uscirà il numero 11 d'Ambrosio mentre c'è a terra anche Gaston forse solo per rifiatare un attimo due giocatori per il Borgo Rosso hanno già tolto la pettorina andiamoci pensiamo a giocare ragazzi ora viene restito la palla a Gaston che va subito corto da Pelliccioni scambia con Moro bene qui il numero 18 che è entrato ora nel secondo tempo ora andremo a vedere di chi si tratta subisce anche fallo spagnolo ora Moro scambia con D'Ambrosio palla che torna allora numero 10 la verticale verso Serafini che sbaglia lo stop dall'altra parte Egidi punto a un giocatore che scivola entra la verticale da destra Egidi 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 palla che si allunga in calcio d'angolo perché l'ultimo tocco è stata di un difensore dopo l'angolo ci sarà anche un cambio per il Borgo Rosso secondo calcio d'angolo consecutivo per il Borgo Rosso a battere andrà con il destro Carrano il numero 26 1 2 3 4 5 6 in area i giocatori palo sul primo palo verso il portiere ad uscire mette fuori la difesa giallo-blu poi Carrano in qualche modo l'ultimo tocco il suo rimessa laterale per lo smistamento è pronto però il cambio pronto il numero 94 mentre Carrano va a fare l'attaccante d'essere Egidi entra Farris per il Borgo Rosso il numero 94 che va a fare l'esterno di destra l'esterno di destra è Segidi mentre per l'autetico smistamento uscirà De Sandoli e il numero 11 d'Ambrosio Davide Dino punto il numero 22 e il numero 13 pronto a rientrare infatti Pretelli è pronto a rientrare anche Di Sabantonio eccolo Pretelli ed ecco anche Di Sabantonio a ricomporre il centrocampo che era partito inizialmente titolare mentre Serafini è pronto a battere la rimessa laterale battuta inna dietro verso Fiorio che lancia in avanti Palla addirittura arriva all'Ovizon che esce alla propria di rigore stoppa bene il pallone pronto per il lancio va a lungo a cercare Carrana anticipato però da Pelliccioni poi Altobelli dall'altra parte commette fallo sul numero 10 Moro stessa il centrocampo ha già battuto sulla sinistra si distende il numero 9 tocco però dell'ultimo difensore di Altobelli quindi primo calcio d'angolo del suo tempo anche per l'atletico smistamento che andrà battuto dalla sinistra di Lovizon andrà a battere con il destro a rientrare il numero 10 Moro trovelli pensiamo a giocare 3 soltanto i giocatori in area dell'atletico smistamento 12 sul cronone del suo tempo si è accesa però la partita battuta corta cross che arriva a mezza altezza chiuso benissimo da crea in qualche modo l'azione ancora buona cross addirittura tra le braccia di Lovizon che riparte con il lancio lungo con le mani Carrano sponda sulla destra pellizioni allunga in rimessa laterale in zona offensiva di destra sarà per il Borgo Rosso minuto 13 del secondo tempo Di Maria scambia con Di Carlo ultimo tocco però il suo rimessa sarà per l'atletico smistamento questo secondo l'arbitro Di Carlo si lamenta un po' con il direttore di gara che era lì e la pista bene a quanto pare rimessa a Giabattola Di Carlo in anticipo ancora fuori ancora rimessa smistamento io sono pure il giocatore capito? fase conclusa del match viene fiscato un calcio di punizione al cerchio di centrocampo per l'atletico smistamento Pelliccioni palena verticale chiusa benissimo dal numero 44 nel teore poi ancora Pelliccioni Spagnuolo scambia con il numero 8 poi Pretelli bella palla in mezzo all'atletico ora cercare il tiro a giro anzi la girata di del numero 9 De Maio al minuto 14 valla ancora buona per Spagnuolo che calcio per un difensore che azione pericolosa che ottima girata del numero 9 De Maio che ha trovato l'ottima respinta di Lovison bel lancio in avanti ora Florio lancio in avanti chiuso da un ottimo di Carlo finora poi Pretelli gira verso Serafini poi Fiorio ancora lancio in avanti stavolta è buona per il numero 9 De Maio chiuso ancora da Alto Belli che poi lascia il palone lì disponibilità del numero 8 Tani contro Lovison Lovison esce e la spazza il più lontano possibile ancora però nella disponibilità solo per qualche istante Di De Maio che è stanco e deve rifiatare allora Melchiorre dall'altra parte uno contro uno contro Spagnuolo si accentra Melchiorre e va da Santucci la Cialamella sbaglia il suggerimento verso Di Maria può ripartire allora la Dico Smistamento sbaglia ancora il numero 13 la Cialamella sbaglia però la visione del triangolo questo verso Parris intensa per entrare anche Petrella rimessa abbattuta ora da Serafini che gira ancora verso Capitan Pelliccioni si è venuto via un quarto del primo tempo del secondo tempo lancio in avanti chiusura ottima di Crea mezza spaccata poi Venale lancio in avanti chiuso riparte con campanile stranissimo Moro di testa Altobelli palla che arriva quasi fuori a destinazione arriva Frasca chiuso da due giocatori Melchiorre è la meglio può ripartire allora il Borgo Rosso per qualche istante anticipato il numero 75 da Pelliccioni mentre è pronto un altro cambio per il Borgo Rosso esce Di Maria ed entra il numero 76 Petrella Petrella va a fare l'esterno di sinistra Melchiorre a fare il giocampista centrale quasi tre quarti ed esce infatti il numero 98 di Maria pronto ad andare lo bisogna la cialamella spissa di testa c'è solo però Pelliccioni di testa la proseguo ancora un colpo di testa Pelliccioni parla da allontanare anzi un suggerimento buono per Spagnolo bravissimo qui in qualche modo palla non è uscita la palla non è uscita invece si Santucci si lamentano un po' di giocatori oggi a lavorare in campo Lovison rilancia ancora di testa ci arriva Petrelli cicca il pallone Melchiorri venta buono ancora per il numero 8 che calcia in porta quasi un pallonetto valla che però non si abbassa e viene ammonito Melchiorri numero 44 Giulio Giulio giusta calmi tutti facciamo questa partita rimanendo calmi se no non avviciamo giacopo 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 facciamo contro andiamo contro di noi se chiacchieriamo Lovison lo bisogna corto verso Venale spizzata buona verso il numero 76 Petrella che crossa in a rete di rigore sul secondo palo c'è Melchiorri Melchiorri esce benissimo benissimo Gaston e la lunga rimessa laterale mentre è pronto un altro cambio per il Borgo Russo minuto 19 del secondo tempo 21 più recupero il cross in a rete di rigore che non arriva a destinazione alla limite c'è Melchiorri che calcia in porta alto cambio 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 pronto altro cambio numero 27 Petrolo è scelto belli va a fare il terzino di destra Petrolo di Carlo ora a fare il centrale Gaston corto ancora da Fiorio che alza allo sguardo lancia con il mancino sempre ottimo lancia di Fiorio sempre ottimo la chiusura del numero 17 crea poi Melchiorri Santucci Di Carlo suggerimento verso la Cialamella sulla destra si distende il Borgo Rosso si chiude bene il triangolo può correre allora il numero 27 72 Petrolo viene chiuso però Moro finisce fallo a centrocampo il numero 2 Serafini fallo del numero 20 la Cialamella battuta corta verso Spagnuolo non passa il tunnel provato da Spagnuolo Petrella può ripartire il contropiede con Santucci 4 contro 4 Santucci rientra converge verso il centro Santucci va via 1 a 2 può anche calciare basta sulla sinistra verso Petrella che può calciare a destro va deviazione provvidenziale di Pelliccioni può ripartire l'allora di Cosmista metta ancora Petrella forse con una mano arriva il cross di Venale sulla mancina due giocatori in area di rigore ci arriva la Cialamella chiuso però sbaglia lo stop Melchiori la rimette in area spazzata classica di Fiorio più lontano possibile in qualche modo ci arriva la chiusura di Di Carlo parte sulla fascia nel lato di Cosmistamento viene chiuso da un ottimo intervento ancora di Di Carlo che può far ripartire i suoi per qualche istante soltanto bella lancio in verticale cross dentro Rosoterra spazza bene Crea può ripartire allora il contropiede di Petrella Petrella sulla sinistra palla è per lui Petrella uno contro uno contro Pelliccioni si dimentica del pallone arriva allora al ripiegamento difensivo di Spagnolo poi Melchiorre anticipato da Amoro ancora Melchiorre la gira su Petrolo poi Santucci calcio diagonale non si sa come la palla è entrata al minuto 22 la doppietta di Santucci inescivolata Gastone non ci sa perché non ci sa come la palla è entrata non ci sa come la palla è entrata 2 a 1 2 a 1 il match parte sull'esterno di destra frasca chiuso si impiccia Melchiorre recupera poi la cialamella dovisciva al centrocampo anzi no si distende in qualche modo allora il numero 94 che la raga sull'esterno di destra bella palla per Melchiorre può chiuderla l'esterno di destra in avanti ancora a cercare un suo complejo di gioco ancora Melchiorre può anche calciare da lì scambia ancora con Santucci la torre della doppietta che sta decidendo il match Santucci può anche calciare da lì bella palla ottimo di Carlo che lancia sull'esterno buco difensivo di Petrelli autore del cross rimane di rigore chiuso bene un altro intervento difensivo può ripartire squadre spezzatissime se ne accorde anche Cesaretti sbaglia qui il suggerimento offensivo un giocatore dello smistamento può ripartire allora Melchiorre la cialamella sticala ancora stacco di Melchiorre non favorisce nessun giocatore in maglia bianco-blu riparte allora Frasca uno contro uno supera Venale ancora Frasca che si accentra cerchio di centrocampo scarica con il numero 10 Moro bella palla in avanti verso il numero 8 chiuso ancora da Acrea la cialamella bravo 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 qui Bellicione Melchiorre lancio bene la sua sinistra c'è Venale può entrare in aria può crossarla tiro cross teso sul secondo palo non ci arriva nessuno dall'altra parte rimessa dal fond dal laterale scuote per l'atelico smistano già battuta batti e ribatti parla che prendi in pieno la cialamella ancora non è uscita Uraco di Anni verticale verso il numero 9 di Maria che perde un altro pallone riparte al centrocampo Moro e scusatemi numero 44 Melchiorre parla verticale verso Carrano bel suggerimento ma subisce fallo anzi che lo commette Carrano numero 76 bella pallina verticale Melchiorre però chiude un quarto d'ora più recupero al termine il giro valla ora sterile Melchiorre sempre lui venale in sua posizione finta di Melchiorre all'altra parte cercare Carrano che non arriva bello qui il cambio gioco verso Frasca in tirare di rigore Frasca può accalciare lo vizionno para Frasca ribattuta altissimo punto 27 cosa si è divorata l'atletico smistamento sul lancio smarcante di De Maio che ha tagliato la difesa in due in diagonale c'era arrivato Frasca primo tiro parato dall'ovizionno sulla ribattuta alto era più facile sbagliarlo è più facile segnarlo che sbagliarlo ma l'ha sbagliata pronto con il calcio di punizione battuto da Fiorio Pedrelli sbaglia riparte ancora la Borgo Rosso 4 contro 5 temporeggia però e poi va sull'ester il numero 4 Santucci il cross in era di rigore si è mangiato il 3 a 1 il Borgo Rosso errore da una parte e dall'altra può ripartire allora Frasca in avanti a cercare De Maio spalla la porta si aggira De Maio 1 contro 1 contro il numero 17 poi De Maio allarga dall'altra parte mentre sale il numero 3 che è pronto al cross la sotterra anticipato Tani Petrelli va sulla sinistra poi si accentra non passa però chiuso bene da due difensori ancora del Borgo Rosso può ripartire nel contropiede però sono 3 contro 4 allora temporeggia e rimane convergendo verso il centro poi sulla sinistra Largo verso Petrella sbaglia Farris Moro larga sulla destra ancora buona Verra e Frasca bella palla di prima chiuso benissimo ancora Frasca caccia in diagonale ancora fuori Frasca minuto 29 del secondo tempo dice che è calcio d'angolo l'arbitro e invece no lo si ripensa e non dà calcio d'angolo bel lancio qui di Lovizon di testa ci arriva Farris dietro per Melchior recupera l'alcolata di Cosmistamento però che prova l'ultimo offensivo uno delle ultime ancora 10 minuti si gira Tahan gira con Moro va dall'altra parte verso Frasca in dietro da Spagnuolo tre quarti offensiva scambia con il numero 9 De Maio che può anche calciare riesce a girarsi bellissimo ancora Crea il migliore di Oswell dietro lancio in diagonale smarcante due contro due per il Borgo Rosso uno contro uno di Farris che va in porta cross dentro la sua terra Pelliccioni a dire di no calcio d'angolo per il Borgo Rosso quando mancano otto minuti più recupero al termine 2 a 1 di questa prima giornata di Serie A d'Elite con il destra ad uscire pronto ad andare tutto male è pronto il cambio per il Borgo Rosso esce Farris entra il numero 83 sabba sabba mentre non si sta ancora giocando chiuso ancora la pelliccioni rimessa laterale già battuta da Pretelli Pelliccioni bell lancio di Pelliccioni a cercare età Ani chiuso da Melchior può ripartire Santucci Girenna dietro da Venale Melchior e ancora Santucci a mio gioco sulla destra dove c'è sabba non ho entrato cross profondo in area di rigore di testa ancora Pelliccioni riparte allora il numero 4 solo per qualche istante Melchior qualche offensione di sinistra c'è Petrella orizzontalmente in area di rigore manca il pallone il nuovo entrato riparte allora De Maio cerchi di centrocampo non c'è però nessun compagno allora va da solo De Maio ne supera uno sull'esterno arriva il solito Frasca che può anche crossare da lì va Frasca supera un ottimo difessore Frasca va a corto da De Maio se l'è divorato il 2 a 2 minuto 34 lo bisogna va a lungo ci arrivano solo gioco di maglia giallo-blu scena avanti fuori gioco arbitro arbitro l'ultimo 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 cambio arbitro arbitro santucci cambio per il borgo rosso meglio re centro-sinistra meglio re esce santucci entra il numero 16 acerbi acerbi scena della doppietta che sta decidendo questa prima di campionato di testa ci arriva la cialamella in avanti verso Petrolo bella balla in verticale in area di rigore cercare proprio l'uomo entrato che non aggancia però la sfera 5 al termine più recupero pelliccioni avanza non trova sbocchi va dal numero 9 De Maio che alza lo sguardo va sull'estero di sinistra anticipato ancora ottima il movimento difensivo della squadra bianco-celeste che ha vinto tutti i contrasti finora tutti gli anticipi verticali in avanti la cialamella passa corto da Pedrella poi scivola pelliccioni pari in avanti Bertani chiuso guarda ancora pelliccioni suggerimenti suggerimenti sull'esterno c'è sempre il numero 4 frasca chiuso ancora da Venale Venale non subisce fallo rimessa sarà per il latetico smistamento De Maio chiuso può ripartire e allora le forze fresche del Borgoglio stanno vincendo tutti i contrasti molto stanca l'altetico smistamento aspetta aspetta lì in mezzo la cia fiorio lancia ancora in avanti benissimo crea poi Venale subisce fallo Venale attacco di frasca va sul fondo giù del Borgorosso grosso in area di rigori ci arriva in qualche modo Gaston con qualche problema il secondo battuta la fassuola blocca può ripartire allora il numero 10 Moro subisce fallo fallo di la cialamella numero 20 viene anche amonito due minuti al termine più recupero vanno saltando tutti gli schemi in qualche modo ci sta provando l'altetico smistamento ma finora si è comportata benissimo la difesa del Borgorosso pronto a battere il calcio di punizione a centro campo Pellizioni pronto a battere profondo con il mancino e la spizzata la palla che sbatta su De Maio e arriva Lovison lancia lunga cerca le Melchiorre supera spagnolo Melchiorre uno contro uno contro Pellizioni poi si gira Melchiorre arriva Petrala in appoggio vado solo Melchiorre poi centralmente verso numero 16 poi si appoggia ancora Di Carlo sale verso la Cialamella che non riesce a arrivare la sfera lancino a diagonale Celi al numero 9 De Maio partito numero 4 palle per lui troppo verticale il pallone chiuso bene ancora da Crea poi ancora Melchiorre in zona difensiva di sinistra c'è la sola posizione di numero 21 poi si ricomincia invece da dietro da Lovison giropala difensivo tra Di Carlo e Crea Melchiorre gira ancora a centrocampo ancora il numero 44 si distende sulla centrocampia da sinistra imbucata chiuso ottimo suggerimento di Spagnuolo chiude bene sulla imbucata verso Petrella lancio in avanti benissimo ancora il numero 16 riesce a recuperare la sfera solo per qualche istante gira ancora la tetrico smistamento tempo di recupero è finito l'arbitro da tre minuti aggiuntivi per provare a pareggiare la tetrico smistamento o per provare a chiuderla il borgo rosso lancio in avanti a cercare ancora De Maio uno contro uno De Maio spalla la porta benissimo qui ne esceva del terzino ancora De Maio che nasconde il pallone va sul centro di sinistra ma tutto da solo caccia in porta deviazione palla allora a Spagnuolo ora Moro numero 10 passa Moro a due giocatori poi un rimpalo non lo favorisce ora si chiuso ancora e subisce fallo la cialamella e rimane giù e viene anche ammonito il numero 10 di Sabantonio un minuto di recupero se ne è già andato ne mancano due lo vison lancio in avanti chiuso ancora riparte lo smistamento forse una delle ultime azioni del match in verticale c'è De Maio uno contro uno contro Crea palla che passa verso Tani chiuso da Di Carlo in compiere partecipazione arrivo di Lovison che poi rilancia l'uomo c'è solo Petrella può partire numero 76 uno contro uno contro Spagnuolo va Petrella chiuso sulla sinistra bella la palla in verticale suggerimento per Petrolo che può anche crossare da lì arrivano accompagna in rete rigore sbaglia chiuso da Pelissoni che poi perde la sfera in rete rigore c'è ancora Petrella va sulla bagnerina palla che non è uscita in qualche modo passa Petrella in rete rigore e poi viene chiuso da Pelissoni chiama palla De Maio Frasca bella palla di Moro per De Maio De Maio è davanti De Maio passa in area di rigore De Maio la passa dentro per Tani chiuso poteva anche calciare troppo altruista è stato troppo altruista è stato De Maio che poteva anche calciare la passa invece a Tani viene chiuso ottimamente non divenso che mi ha mai che ci resta ora è controverso 3 contro 3 ora 4 contro 3 chiuso però dal difensore in maglia giallo-blu può ripartire il tempo di recupero se n'è andato forse l'ultima azione del match Moro non passa alla cialamella poi gamba tesa 43-9 cerchio di centrocampo forse l'ultima punizione della partita sarà timbra giallo-blu già battuta sullo centro di sinistra cross dentro chiuso bene da Melchiorre non c'è più tempo dopo 43 minuti di secondo tempo il Borgo Rosso vince la prima partita in campionato ribadiamo il punteggio Borgo Rosso 2 atletico smistamento 1